E adesso Chiara, per terminare questo straordinario pomeriggio che ci hai regalato, un grazie che a nome di tutti ti dicono le focolarine, i focolarini della scuola che vengono dall'America del nord, del centro e del sud, poi dall'Europa, dall'Africa, dal Medio Oriente, e poi dall'Asia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Passano gli anni e passano tante stagioni, un fuoco di lampa interna e vicina e lontana, su strada invisibile avanza un'onda di vera felicità, disegna una scia di luce che ricopre ormai l'umanità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Verrà, 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 verrà. Siete riusciti a commuovermi? E quello che sento nel più profondo verrà, Gesù l'ha detto, che tutti siano uno. Ecco, allora carissimi, carissimi, evvivalo piano, evvivalo piano.